Sono Mario Galfrè, faccio un lavoro completamente diverso perché lavoro in banca e da più di 40 anni per hobby, fra i miei hobby c'è anche il restauro e la realizzazione di squadre di subutio rigorosamente HV anni 70. Diciamo che per me tengo sempre un centinaio di squadre in un di più anche perché per fare i campionati che faccio è il numero diciamo giusto. Diciamo che avrò restaurato e realizzato sicuramente un migliaio di squadre. È un hobby che mi rilassa io molto spesso visto che di giorno faccio un altro lavoro dipingo di notte, passo anche le ore senza stancarmi e diciamo che faccio sia il restauro di squadre molto scolorite diciamo così, sia la realizzazione di squadre da zero ma sempre su materiali originali HV anni 60-70. Ho per me diciamo le mie squadre rigorosamente inglesi e poi diciamo che ogni tanto le rinnovo per non avere sempre le stesse ma più che altro sono in contatto con sia fornitori inglesi vecchini in causa di giocattoli o appassionati e sia con ragazzi italiani che hanno la stessa passione con i quali ci scambiamo diciamo idee pareri materiale consigli diciamo in ambito subuteo. La cosa che mi piace almeno ultimamente è andare a scovare delle divise sconosciute di magari squadre inglesi di quarta e quinta serie anche del calcio semiprofessionistico che mi permettono di realizzare dei pezzi unici perché anche andando indietro nel tempo non ci sarebbero mai state a catalogo squadre del genere quindi chi capisce questa cosa diciamo che si porta a casa dei pezzi primo che gli piacciono ma secondo che sono anche molto particolari singolari ecco